Donne e uomini della difesa. La stagione di crisi globale che stiamo vivendo ha fatto calare sulle relazioni tra i popoli un lungo inverno, caratterizzato da profonde insicurezze da un lato e da un lavoro febbrile per salvaguardare e ripristinare la pace dall'altro. Un lavoro importantissimo di cui voi siete assoluti protagonisti in tantissime aree a rischio, dalla Bulgaria al Sahel, dall'Islanda al Mediterraneo, dal Libano alla nostra amata Italia. L'officina dei pericoli purtroppo non cessa di produrre, ma ad essa si contrappone un'officina del dialogo e della ricerca di soluzioni pacifiche in cui la funzione che svolgete gioca un ruolo essenziale a livello italiano, europeo e mondiale. L'augurio è che questa Santa Pasqua, festa di resurrezione, possa rappresentare una rinascita anche politica che permetta alle speranze e al duro lavoro compiuto finora di germogliare in una nuova fase internazionale di pace fra i popoli e collaborazione tra le nazioni. La Pasqua è una festa che sprona alla speranza e alla fiducia. La Pasqua insegna che ogni ciclo ha un termine e ogni fine è preludio di un nuovo inizio. Nell'attesa che questo nuovo inizio si compia, non si può che rispondere con il dono della nostra gratitudine al dono preziosissimo dell'impegno incessante della profonda generosità di cui voi date prova ogni giorno, ovunque ci sia bisogno di voi, militari e civili. Il mio augurio, insieme a quello di tutti gli italiani, è quello che possiate trascorrere le eminenti festività con serenità e pace, insieme alle vostre famiglie o in qualunque terra, mare o cielo, voi siate, per svolgere la vostra missione nel mondo. Buona Pasqua a tutti voi. Buona Pasqua alla grande famiglia della Difesa.